bella ragazzi squad booster nuova partita squad batter intanto sblocchiamo il minatore prendiamo il barbolo di qua sblocchiamo anche questo greg buono in negozio abbiamo anche la ricompensa gratuita ottico 7 archieri con 3,50 euro sblocchiamo 50 colt per poi avere un baule 2500 maniere 1x2 andiamo a sbloccare anche questa offerta gratuita con bo miglioriamo vediamo che c'era da migliorare il minatore sicuramente anche l'arciare no va bene andiamo a vedere la partita da fare gol dei pericoli collezionista di pulcini quindi gol dei pericoli collezionista dei pulcini andiamo a vedere iniziamo subito con greg buono buono questo cannone è utilissimo lo buttiamo qua un altro greg andiamo a prendersi l'amore per qua mavis va bene puntiamo alle risorse adesso un altro greg perfetto poi ci andiamo a prendere anche il goblin in pam va bene distruggiamo sta carta ottimo il cannone nevi continuiamo andiamo di qua non voglio intrusi facciamo esplodere la ok con la fusion di mavis andiamo bene non ho una risorse gli alberi poi li sblocchiamo subito qui va bene non Minatore, vieni a scapparmi. Minatore ancora. Non mi attivo come lo sto macchinando. Non mi attivo come lo sto macchinando. Non mi attivo come lo sto macchinando. Arriviamo a quarti alla fine. Non male. Visto come si era messa. Nel baule troviamo Mavis. Migliorabile. Andiamo a ripirare questo premio. Altri 1100 monete buono. E ancora un baule raro nella prossima. Eccolo qua. Buono. 8. 8 per dottore. Pass gemme. Blochiamo anche qui. Ok. Completiamo anche questa. Anche questa. Glugio rapido. Un baule. 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 a tre stelle vabbè buona comunque comunque non sono messo male ho da sbloccare solo due personaggi ovvero questo qua Leon questo qua il fuorileggio per il resto ragazzi ci vediamo in top Italy bella a tutti